A quasi due mesi dal primo caso di peste suina africana in Calabria rinvenuto in un cinghiale nel comune di Cardetto in provincia di Reggio Calabria, l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo ai nostri microfoni ha detto che è tutto sotto controllo, anche perché la Regione Calabria lo scorso 30 agosto del 2022 si è dotata di un piano regionale di interventi urgenti per la prevenzione e la sorveglianza della peste suina. Intanto nei giorni scorsi è stato in Calabria il commissario nazionale per la peste suina Vincenzo Caputo. La situazione è sotto controllo, noi siamo intervenuti anche attraverso una cospicuazione di selezione e di abbattimento sia nelle aree rosse sia nelle aree contigue sia nel resto della nostra Regione perché la emergenza cinghiale è in parte collegata alla peste suina ma è soprattutto collegata all'agricoltura, alla pubblica incolumità e in questo caso anche alla prevenzione per la salute. La peste suina non si trasmette agli esseri umani, nemmeno attraverso il consumo di carni suine ma è naturalmente un'epidemia pericolosa per i cignali e per i suini e noi dobbiamo prevenire il diffondersi di questo contagio e dobbiamo evitare che l'area rossa si aumenti e si propaghi e per il resto io credo che comunque tutto in questo momento sia assolutamente sotto controllo e faremo di tutto per fare in modo che questa epidemia venga eradicata al più presto della nostra Regione.